Un convegno che arriva dopo dieci anni qui ad Agrigento, presso la Valle dei Tempi, è un convegno che serve anche a un aggiornamento professionale? Sì, il convegno serve per un aggiornamento professionale dei notai, ma anche sempre per avvicinarsi ai cittadini, alle varie realtà, in questo incantevole luogo di fronte al Tempio della Concordia. I notai sono sempre più vicini ai cittadini, collaborano con le guardie di finanza, con le autorità, siamo vicini per il terzo settore e quindi per la disabilità. Il controllo del notaio nell'antiriciclaggio è molto importante perché tutte le attività economiche passano dal notaio e il notaio fa da filtro per verificare la legalità delle operazioni e laddove ci possano essere dei sospetti può fare delle segnalazioni, ecco perché la presenza alla guardia di finanza, perché le segnalazioni che si fanno dell'antiriciclaggio sono in maggior parte fatte dai notai. Lei parlerà della fusione e scissione degli enti no profit dopo la riforma del terzo settore? Si tratta sicuramente di un settore che in Italia per tanti anni è stato trascurato e adesso questa riforma ci dà l'occasione per poter finalmente anche in Italia come in altri paesi avanzati valorizzare il settore di no profit e quindi questi strumenti normativi ci danno la possibilità di farlo e siccome si tratta di istituti del tutto nuovi, che hai sconosciuto prima, è molto importante poterli approfondire per valutare l'impatto sui nostri studi e sulla nostra attività professione. Un momento come questo quanto è importante finire anche dell'aggiornamento professionale confrontarsi non solo con gli altri colleghi ma anche con le forze dell'ordine, abbiamo visto la presenza forte delle istituzioni tra cui anche la guardia di finanza. Certo, è estremamente importante per noi che siamo calati nella società e quindi tutti i giorni siamo nei traffici giuridici eccetera, avere la possibilità di interfacciarsi con gli altri operatori, quindi non solo con le autorità giurisdizionali come appunto il Tribunale, ma è l'agenzia delle entrate con cui ci interfacciamo sempre per motivi fiscali e soprattutto anche con la guardia di finanza che svolge un importantissimo ruolo di presidio. Parliamo di questo protocollo d'intesa che avete firmato qui oggi come ordine degli ingegneri in occasione di questo convegno con i notai, ecco qual è l'utilità? L'utilità è che l'ordine si impegna insieme al Collegio Notarile di Agrigento e Rischac a formare con appositi corsi professionali e seminari i propri professionisti per migliorare i servizi tecnici finalizzati alla stipula e al trasferimento di beni immobiliari in sicurezza per chi acquista, quindi migliorare la qualità dell'arte notaia e garantendo una qualità tecnica in modo da poter studiare e storicamente ricostruire un fascicolo di tutto l'intero fabbricato o comunque della parte di cui si parlerà nell'alienazione e nel trasferimento. Questo in maniera tale da poter fare quindi la ricerca sul titolo urbanistico o comunque sulla legittimità urbanistica dell'immobile e poi nel particolare vedere la qualità degli impianti con delle certificazioni esistenti agli atti o da predisporre, quindi con delle prove da fare e le qualità energetiche oggi anche indispensabili per la stipula dei trasferimenti di fabbricati. E l'utente che si rivolge a voi o è un accordo diretto fra notaio e professionista? Allora, oggi è un accordo fra ordini professionali per garantire la sicurezza del trasferimento ai clienti. Sarà il notaio a valutare o meno la disposizione di una perizia giurata di tale portata e dopodiché se il cliente avrà un suo tecnico di fiducia potrà farlo fare col suo cliente, altrimenti sarà il notaio a chiamarsi il suo tecnico di fiducia o i suoi tecnici di fiducia.